10 maledizione, un grande applauso! E la sfilata di Miss e Mister Grotte 2015, il concorso che da 10 anni incorona i più belli a Castellana. Anna Maria Guarino, anni? 16. Di Monopoli? Sì, sì. Cosa studi? Faccio scuola ragioneria e devo fare il terzo anno. Quale progetto, quale sogno? Sinceramente ancora non lo so, però vedrò. L'ho fatto per divertirmi, poi c'era anche la mia ragazza che partecipava qui, ha detto va bene dai, chissà facciamo Miss e Mister. Purtroppo non è stata così, sono contenta per lei. Non sei gelosa? No, assolutamente. Volevate fare Miss e Mister? Miss e Mister esattamente, mi sarebbe piaciuto certo, ma lei merita. Tra le fasce attribuite è quella di Miss Fax, votata dai lettori del giornale sul sito Fax Online, e Pamela Distante di Castellana. Anche lei, come le altre 12 finaliste Miss e i quattro finalisti Mister, aspira ad essere protagonista del calendario Miss e Mister Grotte 2016.